Noi juventini quando arriviamo in un posto come Roma dove le guardie sono vestite di nero azzurro già diventiamo sospettosi, ma non è che siamo sospettosi per sé, noi siamo sospettosi perché nel 2001 c'erano i passaporti e nessuno ha pagato, perché nel 2005-2006 è successo quel che è successo, perché una sentenza di Napoli ha detto che quel campionato era un campionato regolare e non c'è stato uno della federazione che si sia alzato e che abbia detto ragazzi, juventini, 14 milioni di italiani, state certi, se arriva alla fine questo processo e si dirà che, come si è già detto in primo grado, il processo lo dice poi all'ultimo grado di giudizio e si scoprirà, come già è stato detto, che quel campionato era regolare perché non è stato alterato, vi ridaremo lo scudetto, non c'è stato mai nessuno che ci abbia detto questo. E allora anche quando ci danno 10 mesi, il tifoso juventino comincia a pensare che 8 mesi arrivavi fino a aprile, invece 10 copre anche la finale di Champions, così siamo tranquilli, questo pensa lo juventino. Ma lo juventino pensa questo non perché è impazzito, non perché sta male, ma perché c'è una serie di situazioni che non riusciamo a raddrizzare e sembra che lo facciano opposta, per carità, lui da 8 è sceso a 6, lui da 10 rimane a 10. Spiegatemi perché, forse perché non sapevamo chi dare il numero 10 e allora gliel'abbiamo dato a Conte. Grazie. 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 Grazie.